Questo video della serie Tutto in pochi minuti è dedicato al codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004 numero 42. Questo testo di legge sostituisce ed aggiorna il precedente codice di cui al decreto legislativo numero 490 del 99. Lo scopo di questa norma è quello di disciplinare i beni culturali e i paesaggi italiani mediante due attività, quella di tutela e quella di valorizzazione. La tutela in particolare è intesa come quell'insieme di attività che hanno lo scopo di individuare i beni del patrimonio culturale per garantirne la conservazione e la pubblica fruizione, mentre la valorizzazione è intesa come incremento delle conoscenze e dello stato di conservazione dei beni culturali ai fini della pubblica fruizione. In particolare all'interno del codice si intendono per beni culturali tutte quelle cose mobili e immobili che presentano un interesse storico, artistico, archeologico, etno-antropologico o che siano testimonianza di valore di civiltà, mentre invece per beni paesaggistici si intendono i paesaggi italiani, le aree e gli immobili particolari, in particolare quelli indicati all'articolo 134 del codice e che in generale presentano forti connotazioni culturali storiche e tali da dover quindi essere protetti. È importante precisare quello che è il riparto di competenze tra stato e regioni in tema di tutela e valorizzazione, in particolare si fa riferimento al titolo quinto della costituzione. In questo titolo si dice che viene assegnata alla legislazione esclusiva dello stato la tutela dei beni culturali, mentre invece appartiene alla legislazione concorrente tra stato e regioni il tema della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. Questa normativa del decreto legislativo 42 2004 inoltre prevede degli importanti istituti a tutela dei beni culturali nonché del paesaggio. In particolare viene introdotta la dichiarazione di interesse culturale, che è quel procedimento che riguarda i beni culturali di proprietà privata e che se concluso positivamente tale procedimento porta a poter sottoporre quel bene culturale alla tutela prevista dal codice. Mentre invece nel caso di verifica di interesse culturale è un procedimento che invece fa riferimento ai beni di appartenenza pubblica e sia essi mobili che immobili nonché i beni culturali di autore non più vivente o eseguiti oltre 70 anni fa, nonché anche i beni di persone giuridiche private privi di fini di lucro, compresi ad esempio gli enti ecclesiastici. Se concluso positivamente, come nel caso precedente, questo procedimento della verifica di interesse culturale consentirà di sottoporre il bene culturale, stavolta di appartenenza pubblica, alla tutela prevista dal codice sui beni culturali. Viene poi prevista da questo codice l'istituto dell'autorizzazione paesaggistica, che invece è un provvedimento che viene emesso dal comune o da altro ente competente, come ad esempio la provincia, l'ente parco, che è questo a seguito della presentazione di una apposita domanda da parte dell'interessato che intende ad esempio realizzare degli interventi edilizi che possono modificare lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici in delle zone specificamente individuate del territorio comunale e che sono però soggette a tutela paesaggistica. Il codice sui beni culturali si compone di 184 articoli, nonché due allegati, ed è suddiviso in cinque parti. La prima parte contiene delle disposizioni generali e va dagli articoli numero 1 al numero 9, la seconda parte è dedicata ai beni culturali, agli articoli dal 10 al 130, la terza parte invece riguarda il paesaggio, agli articoli dal 131 al 159, la quarta parte contiene le sanzioni, agli articoli dal 160 al 181 ed infine vi sono delle disposizioni finali degli articoli 182 e 184. Concludono la norma, come detto, due allegati. L'allegato A che riguarda un elenco di beni per i quali è prevista una disciplina specifica in merito in particolare al loro commercio, mentre invece l'allegato B contiene una serie di punteggi che possono essere attribuiti per quanto riguarda la qualifica di restauratore dei beni culturali. Nella prima parte del Decreto Legislativo 42-2004 e in particolare all'articolo 1 viene sancito che la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale. Il patrimonio culturale comprende sia i beni culturali sia il paesaggio. Questo già come sancito anche all'articolo 9 della Costituzione. Per quanto riguarda le competenze tra Stato e Regioni, come le abbiamo già accenate prima, sono definite all'articolo 117 della Costituzione. Lo scopo della tutela e della valorizzazione è quello di preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio, nonché promuovere lo sviluppo di tutti questi beni culturali e del paesaggio. In particolare lo Stato e i suoi enti collaborano per garantire la conservazione dei beni culturali e del paesaggio e favorire anche la pubblica fruizione dei beni culturali. Anche i privati che siano possessori di beni culturali sono obbligati a garantirne la conservazione. L'articolo 2 del Codice definisce il patrimonio culturale, che quindi è un insieme costituito sia dai beni culturali, come detto, che dai beni paesaggistici. L'articolo 9 inoltre disciplina i casi in cui i beni culturali siano di interesse religioso, ovvero che appartengono ad esempio alla Chiesa Cattolica o ad altre religioni. In questo caso vengono tenute in considerazione le relative esigenze di culto, nonché quelli che sono gli accordi vigenti tra lo Stato e le religioni. Conclude la prima parte l'articolo 9 bis che riguarda le professioni e i professionisti che possono intervenire sui beni culturali al fine appunto della loro tutela, protezione e conservazione. Si tratta in generale della disciplina di quelle che sono le professioni degli archeologi, degli archivisti, dei bibliotecari, dei demo-etono-antropologi, degli antropologi fisici, dei restauratori di beni culturali, nonché dei relativi collaboratori e nonché anche esperti di diagnostica, di scienze tecnologie applicate ai beni culturali e storici dell'arte in genere. La seconda parte del codice sui beni culturali del paesaggio è poi dedicata ai beni culturali. Tale seconda parte comprende gli articoli come detto dal 10 al 130 ed è suddivisa in tre titoli a loro volta organizzati in diversi capi e sezioni. Il primo titolo in particolare riguarda la tutela dei beni culturali, il secondo la fruizione e la valorizzazione ed il terzo contiene delle disposizioni finali e transitorie. In particolare nel dettaglio il primo titolo al primo capo individua quello che è l'oggetto della tutela, ovvero i beni culturali stessi. Questi, come abbiamo accennato, comprendono sia dei beni mobili che immobili che sono interessanti dal punto di vista culturale, ovvero hanno un interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico. Sono compresi in particolare sia beni pubblici che privati o anche di enti religiosi. Sono ad esempio ritenuti i beni culturali le raccolte di musei, le pinacoteche, gli archivi, le raccolte librarie. Viene poi sancito che nel caso di bene pubblico deve essere svolto il procedimento di verifica di interesse culturale, questo sia iniziato d'ufficio che su richiesta dell'ente che sia possessore di quel bene. Tale procedimento ha come fine quello di accertare il reale interesse culturale e consentire la tutela e le altre discipline del codice. La verifica deve essere svolta sulla base di linee guida del Ministero della Cultura, nonché degli organi preposti e sulla base di un'adeguata documentazione che dovrà essere allegata alla richiesta di verifica. Similmente, nel caso di beni privati, deve intervenire invece la dichiarazione di interesse culturale. Tale procedimento è avviato dal soprintendente competente su richiesta della regione o di altro ente territoriale, previa inoltre anche comunicazione a quello che è il privato possessore. Il capo secondo del titolo primo, sempre della seconda parte, poi disciplina le attività di vigilanza e di ispezione sui beni culturali. In particolare la prima è competenza del Ministero della Cultura e nel caso visiano delle intese può essere competenza anche delle regioni. La seconda invece l'ispezione è competenza dei soprintendenti. Il terzo capo del titolo primo parte seconda invece disciplina le forme di protezione e conservazione sui beni culturali. In primo luogo vengono definite delle attività assolutamente vietate come la distruzione, il danneggiamento, il deteriorare o gli usi incompatibili dei beni culturali. Una serie di altri interventi invece saranno soggetti ad autorizzazione preventiva del Ministero della Cultura. Tali interventi comprendono tra gli altri ad esempio quelli di Lizzi per il cui rilascio è necessaria l'autorizzazione di cui parlavamo prima che sarà competenza della soprintendenza e dovrà essere fornita entro 120 giorni dalla richiesta. Nello stesso capo poi è disciplinata l'attività di conservazione dei beni culturali. Questa è attuata mediante attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. In particolare la prevenzione è finalizzata a limitare possibili situazioni di rischio. La manutenzione invece si intende quell'attività che mira a mantenere l'integrità del bene e le sue proprietà nel tempo. Abbiamo poi il restauro invece che è inteso come un intervento che ha lo scopo di garantire il recupero del bene e il suo miglioramento strutturale. I soggetti sia pubblici che privati possessori di beni culturali hanno l'obbligo di garantire la conservazione mediante quelli che sono gli interventi necessari. Tali interventi possono essere imposti anche dal Ministero della Cultura. Inoltre possono essere riconosciuti dei contributi pubblici per l'esecuzione di tali interventi ed in questo caso il bene, se è di un privato, dovrà essere reso accessibile al pubblico. Successivamente il capo quarto del titolo primo parte seconda prevede una disciplina sulla circolazione in ambito nazionale dei beni culturali. In particolare viene sancito che i beni indicati all'articolo 822 del Codice Civile, ovvero i beni del demanio pubblico, come ad esempio i lidi del mare, le spiagge, le radi, i porti, i fiumi, sono detti del demanio culturale. Fanno parte quindi del demanio culturale. Alcuni di questi poi, elencati in particolare all'articolo 54 del Codice sui beni culturali saranno del tutto inalienabili. Gli altri invece possono essere alienati previa autorizzazione del Ministero della Cultura. Il successivo capo quinto del titolo primo parte seconda del Codice invece disciplina la circolazione di beni culturali in ambito internazionale, ovvero al di fuori del nostro Stato. Lo scopo è sempre quello di controllare questa attività di circolazione per preservare l'integrità del patrimonio culturale. Tuttavia, in questo caso, lo scopo indicato viene ottenuto anche tenendo conto delle norme comunitarie e delle convenzioni che il nostro Stato ha stipulato. Un principio molto importante è quello sancito al comma 3 dell'articolo 64 bis, per cui i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci. Il capo quinto, in particolare, disciplina l'uscita di beni culturali dal nostro territorio nazionale, distinguendo tra uscita definitiva, ovvero senza rientro, ed uscita temporanea, ad esempio nel caso di mostre. Nel caso di uscita definitiva i beni culturali vengono divisi in tre gruppi. Per un primo gruppo viene totalmente vietata l'uscita definitiva, per un secondo gruppo viene consentita l'uscita definitiva previa autorizzazione e per un ultimo gruppo viene invece consentita la libera uscita. Il capo sesto, invece, del titolo primo parte seconda va a disciplinare quelli che sono i casi di ritrovamenti e scoperte di beni culturali. Si pensa ad esempio alle ricerche in ambito archeologico o alle scoperte fortuite. Un principio molto importante è quello del comma 1 articolo 28, secondo il quale le attività di ricerca archeologica sono riservate al Ministero della Cultura. Inoltre, tale Ministero può, se necessario, ordinare l'occupazione temporanea anche di suoli privati, salvo indennizzo in favore del privato proprietario. Le attività di ricerca possono poi essere concesse anche a soggetti pubblici o privati, diversi dal Ministero, e nel caso di scoperta fortuita di beni culturali, l'interessato deve farne denuncia entro 24 ore al soprintendente o al sindaco o ad altre autorità. Le cose che poi sono state ritrovate appartengono allo Stato, il quale riconosce tuttavia a chi le rinviene un premio pari ad un quarto del valore delle cose. Il capo settimo, poi, del titolo secondo parte seconda, invece, va a riguardare la disciplina delle attività di esproprio di beni culturali. L'esproprio può avvenire al fine di migliorare le condizioni di tutela e ai fini della fruizione pubblica dei beni culturali e quindi, in generale, nel caso vi sia, qualora vi sia, sempre una pubblica utilità a favore dell'esproprio. L'attività di esproprio può inoltre essere effettuata dal Ministero della Cultura o previa autorizzazione anche da regioni o altri enti o soggetti privati senza fini di lucro. Il titolo secondo, poi, della parte seconda, invece, è organizzato e dedicato alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Vengono dapprima definiti quelli che sono, ad esempio, i luoghi della cultura, ad esempio i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree archeologiche, i parchi archeologici e i complessi monumentali. Nel caso di beni culturali pubblici, la fruizione deve essere garantita dall'ente possessore. Nel caso, invece, di beni di appartenenza privata, è possibile in alcune situazioni un assoggettamento del bene a delle visite pubbliche a fini culturali, specialmente quando tali beni rivestano interesse culturale che è stato dichiarato di tipo eccezionale. Il capo secondo del titolo secondo della parte seconda è poi dedicato alla valorizzazione, ovvero all'impiego in genere di risorse finalizzate a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, migliorandone le condizioni e la fruizione pubblica. Infine, abbiamo il terzo titolo della parte seconda del codice che contiene delle disposizioni finali e transitorie. La terza parte del codice, invece, riguarda la tutela e la valorizzazione del paesaggio agli articoli da 131 a 159. Questa parte risulta suddivisa in cinque capi. Il primo contiene delle generalità, il secondo disciplina l'individuazione dei beni paesaggistici, il terzo capo riguarda l'attività di pianificazione del paesaggio, il quarto capo riguarda l'attività di controllo ed infine l'ultimo capo contiene disposizioni transitorie. La terza parte del codice, quindi, in generale, è dedicata a questo paesaggio. Il paesaggio, come anticipato prima, viene inteso come il territorio espressivo di identità caratterizzato da fattori naturali e umani. Fanno parte del paesaggio una serie di beni paesaggistici, appunto, come immobili, aree e territori in genere. Alcuni di questi, in particolare, sono tutelati per legge, come ad esempio i territori costieri, i laghi, i fiumi, i torrenti, le montagne, i ghiacciai, le foreste, i parchi, le zone umide, i vulcani, le aree archeologiche. Altri beni paesaggistici, poi, possono essere tutelati qualora siano dichiarati di interesse culturale, tramite delle commissioni provinciali istituite dalle regioni o tramite attività di pianificazione paesaggistica. Quest'ultima attività è definita in particolare al capo terzo della parte seconda, che prevede l'elaborazione di un piano paesaggistico. Qualora un privato proprietario di un bene paesaggistico vincolato intende effettuare degli interventi, dovrà chiedere un'autorizzazione preventiva alla regione o ad un altro ente competente, come ad esempio la provincia, il comune o l'ente parco. La decisione poi dell'ente è basata sul parere vincolante della soprintendenza. Viene poi sancito che alcuni interventi, come ad esempio quelli che non alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici, ad esempio la manutenzione ordinaria, possono essere eseguiti senza autorizzazione, fermo restando quelli che sono i titoli abilitativi edilizi necessari. Infine, per quanto riguarda la vigilanza e il tema di paesaggio, questa è competenza del Ministero della Cultura e delle regioni. La quarta parte del codice è poi dedicata alle sanzioni, agli articoli dal 160 al 181. Tali sanzioni sono suddivise in amministrative al primo capo e penali al primo titolo e penali al titolo secondo. Vengono poi distinte le sanzioni che riguardano la parte seconda del codice, ovvero quella sui beni culturali, dalla parte terza, ovvero quella dedicata al paesaggio. Ovviamente in questo video breve non si è potuti scendere nei dettagli del codice. Per chi fosse interessato, in questo canale è presente una playlist interamente dedicata al codice sui beni culturali in cui vengono illustrati dei maggiori dettagli. Un saluto a tutti e al prossimo video.